Presenterà alla stampa e in diretta televisiva su Cilento Channel e sui social la sua candidatura a sindaco per la città di Castellabate, Domenico di Luccia, sabato 30 gennaio alle ore 18.30 presso l'hotel Puntalicosa. È stata una decisione convinta, dichiara Domenico di Luccia, una decisione maturata con grande senso di responsabilità ma animata da una grande ambizione. Dare a Castellabate è un progetto di respiro europeo. Per farlo occorre avere i piedi ben piantati a terra ma anche la capacità di guardare lontano, di gestire il nostro presente in modo efficace per programmare un futuro sostenibile, moderno e innovativo. Castellabate continua di Luccia, deve essere ambiziosa ma anche consapevole dei problemi quotidiani della nostra comunità. Il Covid sta danneggiando la nostra economia e il nostro tessuto sociale, sottolinea. Ci troviamo a dover affrontare emergenze nuove in un panorama difficile, incerto e complesso. Amministrare il futuro del territorio richiederà un gesto di grande responsabilità sia da parte della futura giunta sia dei cittadini nel ruolo di elettori. Pertanto partecipate in modo attivo, portate le vostre idee e chiedeteci di più perché il futuro lo faremo ripartire solo noi, ognuno di noi. È questa la ragione principale della mia candidatura, costruire con voi il nostro futuro, conclude la nota stampa del candidato Domenico di Luccia.